e salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video nuova settimana seconda settimana di allenamento ricominceremo con il petto ovviamente faremo sempre la panca piana come primo esercizio faremo tre serie per uno con 74 kg e poi la quarta e ultima serie la faremo con 64 kg ovvero 10 kg in meno per max però come prima cosa ovviamente ci andremo a pesare grazie a tutti secondo esercizio abbiamo panca inclinata 4 serie per max con 50 kg comunque non so come ma avevo messo 60 kg non 50 60 ho fatto uno sbaglio di 10 kg però ragazzi ne ho fatti 6 parliamone 6,60 kg dopo due mesi di stop vabbè meglio così a volte sbagliare fa anche bene ci vediamo con il terzo esercizio sono le spinte su panca inclinata con manubri 3 serie con 16 kg su panca inclinata 4 serie con 16 kg su panca inclinata abbiamo spinte al cavo basso faremo 4 serie per 10 a lato con 12 kg non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.